buongiorno a tutti e benvenuti a questo tutorial per vedere come compilare la domanda gradatorie permanenti ata 24 mesi che si potrà compilare da dal 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del 30 maggio 2024 allora entrati sulle stanze online con il codice speed dunque con lo speed e dopo essersi logati si va su istanze online e si va sulla prima istanza che vedete qui i gradatori e permanenti ata 24 mesi dove potete trovare riferimenti normativi le scadenze amministrative la assistenza web e le istruzioni per la compilazione andando alla vai alla compilazione si entra nella domanda domanda che ancora non è inserita ma al momento in cui si va a inserire cioè nei prossimi passaggi verrà inserita e salvata in bozza vi ricordiamo che l'inoltro non è uguale all'inserimento l'inoltro dovrà essere proprio fatto alla fine della domanda quando si sono compilati tutte le sezioni quindi si potrà fare una un inoltre scendendo e guardando questa informativa e queste avvertenze ed è un'informativa appunto sul trattamento dei dati personali scendendo in basso si deve dare l'ok per la lettura di questa informativa che diventa fondamentale al fine di fare la domanda di compilare la domanda dunque si deve slasciare questo punto preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e quindi poter fare accedi quindi si entra in una pagina dove si sceglie la provincia di destinazione della domanda che comunque rimane vincolata a una procedura per esempio coloro che sono inseriti in terza fascia ata e si inseriscono per la prima volta dovranno fare la domanda della provincia di riferimento dell'inserimento in terza fascia e quindi sono vincolati alla scelta della provincia qua le leggiamo con importante cura queste questi tre punti proprio che vengono richiamati come punti importanti l'aspirante che si iscrive per la prima volta in queste gradatore deve dichiarare tutti i titoli e tutti i servizi l'aspirante che aggiorna una gradatore in cui era già presente lo scorso anno deve inserire solo i titoli e servizi non precedentemente dichiarati l'aspirante che aggiorna un profilo e si inserisce in un altro deve dichiarare tutti i titoli e tutti i servizi e sarà l'ufficio che valuterà la domanda a ea non valutare i titoli servizi precedentemente valutati quindi si va alla scelta della provincia nel caso specifico e dunque si inserisce la domanda nel caso specifico scegliamo la provincia di reggio calabria scegliamo la provincia di reggio calabria e facciamo avanti speriamo che questo tutorial questo primo tutorial sulle compilazioni la domanda 24 mesi sia stato utile seguiranno altri tutorial per la compilazione delle varie sezioni arrivederci e grazie